Michele Sperandio, direttore artistico di Pedaso Jazz, una manifestazione che si sta fermando anno per anno. Sì, grazie, siamo molto contenti di presentare per la terza volta questo Jazz Festival e ovviamente questa è l'ultima delle tre serate in cui si sono alternati diversi gruppi provenienti da tutta Italia e non solo perché questa sera abbiamo un fantastico duo proveniente dalla Germania che sono appunto Judy e Wolfgang che presenteranno un loro disco ovviamente Pianoforte e Voce che ripercorre un po' quello che è il songbook della musica afroamericana insomma quindi del Jazz, ovviamente rifatto in una chiave personalissima anche un po' moderna che insomma ripercorre appunto questa storia del Jazz e della musica e della canzone Jazz diciamo. Ottimo successo anche venerdì con il Foro On The Floor e Stefano Coppari e Scarletto. Sì, sì, questi sono due progetti che diciamo che gravitano intorno alle Marche. Nel primo è stato fatto un omaggio a un celebrissimo chitarrista che è John Scoffitt, un chitarrista americano insomma molto famoso è un diciamo un repertorio abbastanza concentrato sul ritmo e quindi sul funk mentre il secondo progetto anch'esso molto interessante è quello di Stefano, grandissimo amico che conosco da molti anni e che ha avuto piacere di presentare il suo disco qui di composizioni originali in quartetto, una musica molto particolare che ovviamente noi ci sentiamo in dovere di portare avanti perché oltre a quello che sono i classici repertori mainstream del Jazz comunque cerchiamo anche di proporre nuovi artisti. Ti ringraziamo per tutto questo. Grazie a voi. Al comune anche? Al comune di Pedaso e ovviamente alla nostra associazione che è il cantiere collettivo che si occupa appunto oltre alla didattica e alle produzioni musicali anche di insomma organizzare eventi, quindi grazie a voi. E' questa iniziativa, è un'iniziativa del comune? Sì, iniziativa organizzata insieme alla Proloco e ai ragazzi di cantiere collettivo. Siamo molto contenti di come sta andando, è solo il terzo anno ma è un successo crescente. Quest'anno purtroppo il maltempo ci ha impedito di usare la bellissima cornice di Pedaso Centro Storico però siamo contenti comunque di aver avuto la disponibilità della parrocchia di Pedaso che ci ha dato il cineteatro che usiamo... Supporto su. Sì, 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 beh a Pedaso funziona così, è il segreto del successo. Sing out your blues cause you're in line today Ciao ciao! Grazie a tutti